ah 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 tara grazie voglio stato mi piacito buonanotte ragazzi buonanotte scatenamma felicità ah è fornuto voglio è fornito buonanotte abbiamo sparato però abbiamo fatto tante cose che non dovevamo fare grazie a tutti e continuate a far vivere questo orto perché anche voi siete dei fiori meravigliosi grazie e buonanotte fuori 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 e già no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti